Da oggi è ufficiale, arrivato dalla regione Piemonte, il riconoscimento della costituzione della fondazione Il Maggiore. Si occuperà della gestione del centro eventi. Domani pomeriggio la riunione del CDA già fissato. Il sindaco verbanese Silvia Marchionini spiega che, già necessariamente definita la prossima stagione teatrale con la direttrice artistica Renata Rapetti, ci sarà ora una fase di transizione, di passaggio delle consegne tra comune e fondazione, anche se i due soggetti continueranno a collaborare strettamente. Ricordiamo ad esempio che il personale impiegato è sempre quello comunale. Nel giro di qualche mese è auspicabile anche l'ingresso di soci privati, ha aggiunto Marchionini. Il consiglio di amministrazione della fondazione è presieduto da Rita Nobile, con lei Paola Fornara e Roberta Costi, tutte senza indennità. L'ingresso di tre soci privati comporterebbe un loro rappresentante nel CDA. Se i privati fossero cinque o più, i loro rappresentanti salirebbero a due. I soci fondatori sono Comune di Verbagna e Regione Piemonte, con un contributo di 250 mila euro ciascuno all'anno. La stagione costruita ricalca in parte le precedenti, ma c'è una necessità di crescita nella quale, credo molto, il cartellone di Renata Rapetti la rappresenta a pieno, con diverse cose nuove, spiega Rita Nobile, che con la sua squadra si appresta a dare proseguzione a quanto fatto e a utilizzare tutte le esperienze sin qui accumulate. La presidente della fondazione parla di una struttura multiforme, che può essere utilizzata in diversi modi, per ospitare accanto alle differenti forme d'arte anche convegne, ad esempio, e poi si guarda lo sviluppo del bar e al futuro ristorante. Quest'ultimo dovrebbe essere aperto sia prima che dopo gli spettacoli serali. Il maggiore deve funzionare non per 365, ma per 460 giorni all'anno, chiarisce nobile, puntando quindi ad eventi in contemporanea e un'ampia funzionalità dei diversi spazi. Altri obiettivi, quelli di coinvolgere sempre più cittadinanza e associazioni e di creare collegamenti con strutture artistiche nazionali ed internazionali. Il teatro è stato inaugurato da 26 mesi ed ha raggiunto discreti livelli di partecipazione ed attività, deve crescere tenendo conto che si tratta anche di una struttura costosa, ha concluso la presidente.